Buongiorno dalla redazione di Flores Multimedia in studio Marco Gargini. Iniziamo dalla 1 dove ci sono code per il traffico intenso in uscita a Firenze Sud provenendo da Bologna. In A11 in direzione Firenze rallentamenti per traffico intenso tra Prato Ovest e Bivio con la 1 e code per viabilità esterna che non riceve tra Sesto Fiorentino e Peretola. In Fipili un chilometro di coda per lavori tra Ponte dell'Est e Montopoli-Valdarno in direzione Firenze. Un chilometro di coda anche in direzione Livorno. Code a tratti per traffico intenso tra la Strassigna e Firenze-Scandici verso Firenze. Per la viabilità cittadina a Firenze e per i cantieri della tramvia in vigore gli detti di sosta a tratti in via Cosseria tra i civici 18 e 20 e tra il civico 30 e via Crimea. Muoversi in Toscana Info è un servizio in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio! Buon viaggio!